E' stato intercettato in A1 con ancora il bottino, frutto di due truffe distinte ad altrettanti anziani consumate in provincia di Modena, monili d'oro e contanti per oltre 2000 euro. A fermare il truffatore, un cittadino italiano di 50 anni lungo l'autostrada del Sole, i poliziotti della postrada di Battifolle. Anche questa volta le frodi avevano seguito il solito canovaccio, una telefonata e poi la minaccia che i figli sarebbero andati in galera se non fosse stata pagata la somma di denaro di una persona che di lì a poco si sarebbe presentata a casa. Adesso il 50enne è stato denunciato, sono stati sequestrati preziosi per un valore economico di oltre 30.000 euro che saranno restituiti ai digittimi proprietari. Le indagini invece proseguiranno volte all'identificazione degli altri componenti della banda. Durante le ricerche dell'auto utilizzata dai truffatori, la postrada, sempre in A1, ha intercettato anche un Audi, ritenendo possibile che all'interno ci fossero i malviventi ricercati. Alla guida in realtà un italiano appena trentenne che riguarda le truffe non c'entrava nulla ma che in compenso aveva alterato le targhe di immatricolazione del veicolo modificando la prima lettera F in una E con un pennarello indelebile. Uno stratagemma per poter commettere tutte le infrazioni che voleva. Certo che nessuno lo avrebbe mai identificato ma gli è andata male, le targhe sono state sequestrate e lui è stato denunciato.